Sono il giri amici sportivi e bentornati a Chiedi al Bardo, l'unica videorubrica che risponde alle vostre domande sul wrestling. Oggi mi chiedete se mi è piaciuto commentare la UFC insieme ad Alex Dandy e se sì, se lo rifarei e cosa ci ho guadagnato a livello lavorativo da questa esperienza. Allora, è stata una telecronica un po' strana, devo dirvi la verità, per diversi motivi. Innanzitutto non sono esattamente nel mio campo di massima competenza, nel senso che in passato mi è capitato di commentare dal vivo show di kickboxing, di Muay Thai, Thai Box, Savat, ma raramente ce l'hanno le arti marziali miste. E mi è capitato anche al tavolo dei telecronisti in filo diffuso, magari di fare delle previsioni, di accorgermi che un atleta aveva una guardia un po' strana o che era un po' ozioso in alcune azioni d'attacco, di dirlo nel microfono filo diffuso e poco dopo uno dei due atleti vinceva utilizzando proprio la debolezza che io ho evidenziato nella, diciamo, telecronaca. Mi è capitato due volte questa cosa a Genova, uno con un atleta, credo sloveno, che sostanzialmente aveva una guardia sinistra veramente debole, continuava a abbassare il braccio sinistro quasi a fare la provocazione all'altro e pam, si è preso un'infoiata dentro, mica da ridere. Mi ricordo che a fine di quell'esperienza l'allenatore del ragazzo italiano che vinse venne a congratularsi con me dicendo cacchio ci hai suggerito la tattica per fare nostro il match, io ero su DG dicendo cacchio che figo che sono. Però questi sono sport da combattimento chiamiamoli tradizionali, ora non crocifiggetemi, io uso un frasario quasi da profano, ok? Le arti marziali miste invece hanno una preparazione, chiamiamola, assoluta, totale, con diramazioni in talmente tanti ambiti che credo presuppongano veramente una competenza conoscitiva unica in quell'ambiente. Quindi sì, ho provato a dare delle mie interpretazioni un po' da, vestendo i panni voluti, del minchione che per la prima volta commenta la UFC. Quindi se noto qualcosa lo dico anche a costo di fare brutta figura perché da parte ho uno che ne sa, ovvero c'ho Alex Dandy, che può dirmi no aspetta, quella notazione tecnica che tu hai fatto potrebbe essere giusta se, però guarda che in realtà è come dico io. Quindi ho cercato di fare il gnubbo, e in buona parte lo sono, il gnubbo che si accosta alle arti marziali miste perché sono una figata, sono bellissime da vedere, è stato anche dal vivo a vedere Venator o quando c'è qualche manifestazione vicino a casa mia mi imbosco senza farmi notare, vado a dare un'occhiata perché insomma vanno sostenuti, ci sono degli attretti italiani fortissimi, adesso alcuni stanno iniziando a farsi conoscere anche all'estero, li ha presi la UFC, però se non hanno il sostegno quando non sono nessuno, è difficile che diventino qualcuno, quindi è sempre la base sconosciuta che bisogna coltivare, perché poi quando uno è famoso è facile andare al concerto con l'accendino o stare davanti alla tv a tifare, ma è prima che devi dargli una mano, perché più gli da una mano prima più riuscirà magari ad avere le sue occasioni, questo vale anche nel wrestling. Ad ogni modo, dicevo, l'esperienza mi è piaciuta, io mi sono divertito, Luca era un po' più perplesso, perché cosa accadeva? Mentre noi cercavamo di partecipare in maniera positiva allo show, all'evento, perché ci piace, è chiaro, il nostro pane quotidiano è il wrestling, mi piace di più il wrestling della UFC, ma perché nasco con quello, mentre io almeno assumevo questo ruolo di qualcosina so, ho praticato krav maga, difesa, eccetera, sapendo e conoscendo le limitazioni ho deciso di fare quello che si butta, dice la sua, proprio da spettatore occasionale, che qualcosina sa pronto ad essere corretto, anzi, correggimi Alex, perché tu dai l'informazione giusta e magari altri che sono al mio livello di apprendimento, di conoscenza, fanno la stessa analisi e capiscono meglio le cose perché tu li porti sulla giusta via. Ecco, mentre facevamo questo, purtroppo tanti appassionati di arti marziali miste sui social media non erano contenti della nostra telecronaca, c'è da dire che tanti lo erano e tanti no, la bilancia più o meno è paritaria, so che è impossibile piacere a tutti, fortunatamente le voci di critica, spesso non molto centrata, a volte sì, ma spesso no, sul wrestling sono una minoranza, spesso non giustificata, insomma, quando uno leggo posa, non sa niente di wrestling, vabbè, ho 6.000 tra libri e riviste, ci ho dedicato tutta la vita, ho visto più di 11.000 ore di wrestling, avevi pazienza, qualcosa anche solo per osmosi devo aver appreso, anche casualmente. Ecco, lì c'era un pubblico su alcune cose veramente feroce, perché sembrava quasi l'ingresso in un ambiente riservato, in un ambiente quasi ecclesiastico di due, che con quell'ambiente non dovevano avere niente che spartire, perché il wrestling è una buffonata e qua ci si picchia per davvero. Allora, posto che UFC sta utilizzando delle tattiche di promozione molto derivate dal wrestling, tutto sommato è vero, sono due ambienti differenti, uno è spettacolo e l'altro è combattimento reale, sono tutti e due ambienti ghettizzati, dalla stampa, dai media, ma ognuno ha la sua identità e la sua dignità, perché uno che guarda lo spettacolo del wrestling può esaltarsi con l'azione sportiva straordinaria dell'UFC, è uno che si esalta per la UFC e i suoi grandi campioni di sport e di vita, con l'arte marziale, combattiva, che entra nel ring, si fa carne, sangue, ti dà anche un esempio e ti diventa quasi un faro che puoi seguire, perché io queste cose le capisco avendo praticato qualcosa, può anche dire adesso mi rilasso e guardo quelli del wrestling, stacco la testa per qualche minuto e entro in un mondo di fantasia, faccio cadere un paio di pareti e mi lascio guidare dalla sospensione dell'incredulità. Quindi credo che i due mondi non siano in conflitto, possono benissimo coesistere. Ad ogni modo ecco la critica durante la diretta, chi criticava, quindi la metà delle persone almeno, era parecchio feroce. E su questa base non lo so se rifare l'esperienza, a me è piaciuto un sacco, perché comunque impari, vedi una cosa nuova, partecipi ad una cosa nuova, c'era Brock Lesnar che combatteva, cerchi di dare le tue esperienze. Io mi ero anche molto preparato perché di Brock Lesnar ho letto tutti i libri che sono stati scritti su di lui, compresa la sua autobiografia. Poi il match mi ha dato poca possibilità di raccontarvi le cose legate a lui e mi sembrava anche che il fan UFC non volesse sentirle, dirò la verità, almeno a giudicare dalle cose, ma ne sapevo e ne so ovviamente un botto perché l'attingere informazioni, soprattutto quelle poco conosciute, è una delle mie peculiarità. Quindi dirti che uno dei pochi che l'ha sconfitto oggi fa il benzinaio, non è che ci trovi pieno la rete, parlo a livelli universitari, amatoriali, non è che trovi la rete piena di queste cose, devi proprio andartela a cercare, o le dichiarazioni dei suoi coach, il come è stato preso nelle varie università, quando è andato a fare i provini, come lui si sia offerto di fare il test antidoping dicendo se non credi che non sono vero fammi subito il test adesso andiamo e questo ha convinto l'università del Minnesota a dire buh cacchio che roba, cioè stiamo attenti perché non tutti arrivano con questo modo di proporsi. Poi purtroppo UFC dopo ci sono stati i controlli e in questa circostanza l'hanno sgamato. Però ecco non so se la rifarei perché è un pubblico forse molto esigente che preferisce avere solo gente straordinariamente competente e questo è lecito volerlo, rispetto a qualcuno che magari è più abile a fare intrattenimento o fare una voce di collante per chi non è così competente come possiamo essere io e Luca. Frank durante quella telecronaca si era un po' attapirato perché leggendo le varie critiche sentendosi un po' un pesce fuori d'acqua, se voi ce l'avete registrata vedrete che più si va avanti meno parla, ho cercato solo di dare cose marginali a volte magari leggeva su Twitter quello che scriveva gente, qualche praticante e provava a farlo suo perché effettivamente ci siamo accorti come vi ho già ribadito che insomma almeno chi partecipava sul web voleva un altro tipo di commento una buona parte, la metà almeno. Io però lo rifarei, o io ve lo dico così, lo rifarei, a costo di prendermi pesci in faccia di fare brutte figure, io credo che ci siano tanti che vogliono avvicinarsi alla UFC e quali un commentatore chiamiamolo neutro, anche un po' ignorante possa fare comodo sempre nel rispetto ovviamente degli atleti e delle loro professionalità io spero questo di non averlo intaccato in nessun modo, due super competenti fanno la gioia chiaramente di chi è già competente e aumenta il suo bagaglio oppure ritrova quello che ha studiato e letto ma uno che cerca di attirare una nuova platea magari con dei modi di fare chiamiamoli più giovanili più estroversi oppure da tizio che chiede all'esperto, ad Alex e si fa correggere o estradare credo che possa essere una chiave di volta per guadagnare un consenso maggiore perché il rischio della UFC è lo stesso che corre il wrestling, solo che il wrestling è più cacciarone quindi di rifo di raffa poi spesso percentuali di ascolto alte riesce a farle ovvero quello di rimanere in un ghetto e di non farsi fan nuovi perché lo zoccolo duro seguirà sempre ma è il fan nuovo che poi fa numero, fa massa è il fan occasionale che permette a sport concreti, fisici, duri, reali come UFC eventualmente di fare il botto e diventare fenomeno di massa e di cultura come lo è diventato in America va bene, credo di avervi detto tutto al riguardo non credo, sarò richiamato a commentare le arti marziali miste è un po' che non faccio neanche gli altri sport da ring vi dico la verità, ho diluito molto queste cose a volte sono andato anche abbastanza male dal vivo per problemi di vario tipo a volte come vi dicevo, soprattutto a Genova, sono andato veramente veramente bene però insomma con gli impegni lavorativi, la salute del papà e mille altre cose alla fine su questo ambito ho preferito un po' accantonarlo però si sa mai, magari fra sei mesi mi trovate a commentare la sabato o che altro in giro per l'Italia in qualche palazzetto se volete aggiungere qualcosa, mani roventi, qua sotto è aperto il dibattito ovviamente vi chiedo di essere educati se la telecronaca UFC, le due mattacchioni del wrestling non vi è piaciuta ditelo senza problemi, purché lo facciate, ecco, con un minimo di garbo io mi ricordo durante la diretta c'era addirittura gente che ci minacciava cioè che scriveva vengo a spaccarvi le gambe e io dicevo cacchio ma insomma spero che non succeda davvero innanzitutto perché non sono una persona violenta almeno di primo acchitto in seconda stanza che questi sono praticanti quindi può farci che lo sappiano anche fare anzi quasi tutti probabilmente lo sanno fare e poi perché vabbè, insomma l'idea non era assolutamente quella di degradare uno sport che in realtà ci piace un sacco anche a noi che facciamo il wrestling ecco, va bene dai ci ascoltiamo e ci sentiamo al prossimo installamento della rubrica Chiedi al Bardo grazie per l'attenzione e a presto ciao